Ciao a tutti ragazzi, io sono TheRexen e benvenuti in un nuovo possibile gameplay Ciao a tutti, eh sì, ciao a tutti, va bene, va bene Benvenuti su un nuovo gioco prodotto da Alphabric Studios Esatto, che si chiama Dan The Man E quella è la canzoncina incassante proprio Ecco allora, proviamo la storia, che è l'unica modalità che c'è per ora Allora, eh sì, il primo capitolo, prendiamo questo Benissimo, ecco, però la canzoncina, oltre che incalzante, è molto assordante E quindi, eh sì, le mie orecchie se ne sono andate un po' più in love rispetto a dove dovrebbero restare Ecco Avete capito? Insomma, questo, molto importante quello che ha detto la ragazza Corre in una maniera veramente pessima Il personaggio è un altro protagonista Ecco, eh sì Dobbiamo prendere i soldini Punch, punch, punch Ecco, fai Vieni qua, vieni qua Sbam Prenditi questo, prenditi pure questo Ecco, allora sì, eh, va bene Ragazzi, proprio oggi, 30 settembre E' arrivato l'aggiornamento al mio cellulare E' la 6.0.1, ragazzi Mamma mia, si chiama Marshmallow Non mi sto scherzando E niente, mi ci trovo molto bene All'inizio, eh, ho laggato un pochettino Eh, ho laggato un po', però dopo, ehm, non mi ho laggato più, si è ripreso Perché era la prima volta che, ehm, che, ehm, appunto, ehm, ho aggiornato la versione Android E quindi laggava un pochettino la ROM Quindi, però dopo si è ripreso E ora non lagga più Spero che non ci siano, che non, ehm, che non ci sono, che non ci siano, ehm, problemi di rom di questa ROM Perché, se no, aspettate, ragazzi Ok, scusatemi, ragazzi, rieccomi Allora, ora, salviamo Oh, oh, for playing Esatto Oh, di nuovo un altro picciotto Non faccio niente, così Vieni qua Vieni qua Svan Mi ricorda, mi ricorda, però, eh Molto Metal Slug Molto, però In versione, questo, questo di qua, però, è molto, molto, ma molto in versione cartunesco Svan, qua, anche Allora, ci sono i Shar, 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 come si chiamano, quelli, là, dei ninja Non mi ricordo, non mi ricordo proprio Andiamoci Oh, mio Dio Vieni qua Svan, Svan Svan, ah Vieni qua Ucciso C'è, ho messo KO E ora Ecco qua Bello questo Questa mossa È fortissima Ah, già sono pieno Non posso prendere altro Che cos'è questo? Si può distruggere? Sì, benissimo Aspettate Tocchiamo Eh, che cos'è? Watch a video for a random item Svan, no Non ora Si deve fare per forza No, vabbè, aspettate Eh, metto pausa e riprendo dopo Ok, rieccomi Perfetto Eh, Svan, Svan, Svan Svan Vieni qua Svan Vieni qua Svan, Svan, Svan Svan, Svan Uh, uh C'è, KO No, sbaglio Svan Messo KO pure lui E prendiamo questo Ok Ehm Guarda, non mi hanno toccato completamente Ho fatto perfect Che cos'è questo? Non lo posso picchiare Oh mio Dio, che cos'è? Senza motivo sono venuti Che c***o Che cos'è? Senza, così Aspetta Svan Svan Qua Sì, picchiamo Da dietro le spalle Perché noi Ahia Qualche ammazzata in testa può arrivare Nella coppola può arrivare Eh, per capitare Però L'importante è che Non ce ne sia Un'altra Ecco Benissimo Svan, Svan Non gli faccio toccare Terra Benissimo Ma sono fortissimo Ecco Ecco Svan 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 Bene Ehm Sì Ah Benissimo Allora Bene Che cos'è questo? Così Bustiamo le persone E ci aprono Non No, non mi servono Queste cose Per ora Ma vediamo quanto dura È un long play Questo Pensavo di fare Tipo I primi cinque minuti Invece qua Ore Quattro Cinque Novantasei Ahia Tantissimo Ha fatto male Ma quanto Però Come faccio Scusatemi Ah Ah Aspettate Ah Almeno ho sceso Quattro Quattro Vieni qua Ahia No Mi sa che muoio Resisti Svan Sì Ce l'ho fatta Quanto dura Vai Che cosa devo fare qui? Ce la faccio? No Secret item Secret item Va bene Saltiamo qui Saltiamo qui Batteria scarica Va bene E salviamo Check point Sette minuti Ah mio Dio Benissimo Speed run Ecco qua Ora però Non lo faccio Ecco Scusatemi Ma come faccio A tipo Restabilizzarmi Che cosa è questa Pozione In In alta Vai Via Allora Sbam Vai Non ti fare picchiare Non ti fare picchiare Non ti fare dare Scappellate Sulla nuova Perché Dai Resistiamo Aspetta Provo a rompere Qua No Non mi spunta E come si chiama Forse posso entrare qui Benissimo Perfetto Mi sono Restabilizzato Un pochettino Ora Riprendiamo Per Restabilizzarci Un altro Pochettino Magari Un altro Ah Non posso Ah C'è la mella Lì Benissimo Dai Oh Check point Benissimo Vieni qua Sbam Ah Già morto Sono forti Benissimo Vieni qua Sbam Non è caduto E ora Sbam E vai Che cosa è questo Devo andare qui No Eh Sì Vieni qua Vieni qua Sbam Vieni qua Ah Mi piace molto Questo gioco Ditemi Se Vi piace Questo gioco Appunto Con i pollici in su E i commenti Ehm E io lo continuerò Lo continuerò Volentieri Anche se non scrivete niente Eh Anche se non scrivete niente Mi riferisco a tutti Provo tutti Ehm Lo continuerò Lo continuerò Perché mi piace Troppo Questo gioco Avvicinati al nemico Ehm Fai mosse allucinanti Di karate Buttale a terra Dopo avvicinare Fai mosse di karate Impossibili Anche a brosley Dopo avvicinati Ancora al nemico Fai mosse di karate Che Niente Jackie Chan E niente Tutte queste cose E con noi passiamo Non posso Come faccio Posso Posso Benissimo Allora qui E vabbè Può capitare Dai Benissimo Ah proprio Mi devo fare male Come mi devo fare male Che cos'è questo Ho distrutto Una cassa Incredibile Aia No Ahah Mi ha salvato Tantissimo La pozione Quella era tipo Una vita extra A quanto ho capito Ma quante persone Però forse è finito Dai Scusatemi ragazzi Se non parlo Però sono molto Concentrato Perché C'è persone Che mi vogliono Uccidere Proprio Che mi vogliono Mettere K.O Che Proprio Come Sì Ecco Come Tekken Andiamo qui Non mi sparare Che non è giusto Spari a un disarmato È come se Dai un pugno Ad un ragazzo Con gli occhiali Ecco Che cosa è questo Non si può fare niente Oh benissimo Allora Ora andiamo da questa parte Sto saltando Oh Forse ho finito Aspetta che alzo un pochettino Seguiamo la storia Molto interessante Ecco è successo Sì Ballone di gruppo E dopo Se ne sono andati tutti Il nostro personaggio Ha guardato questo Ballone di gruppo Per 5 secondi E dopo Se ne è andato A Gli arricorsi Ecco Le classiche storie Senza senso Che ormai sono andate di moda Vanno di moda E continuano ad andare lì Ma 12 minuti di video Mamma mia Proprio Noi si Benissimo Posso aprire questo Baule Mamma mia Mi ricorda Clash Royale Però apri Ah Apri Così Deve continuare a tappare Benissimo Mettiamo ok Andiamo avanti Continuiamo Che cos'è Questo Sì Voglio upgradearlo Benissimo Il mio primo upgrade Dietro Ho sbloccato Il secondo Episodio Che forse Capito Secondo capitolo No 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 Secondo episodio Il video finisce qui 13 minuti di video Godeteveli tutti In 720 E 60 fps E niente Ci rivediamo In un prossimo video Ciao a tutti ragazzi Commentate Condividete Iscrivetevi al canale E noi ci rivediamo Ad un prossimo video Ciao a tutti ragazzi